e salve ragazzi mi trovo di nuovo su plans vs zombies guard warfare e oggi vediamo una partita multiplayer contro altri giocatori facciamo la modalità tappetino di benvenuto visto che dovrebbe essere quella per i principianti dove non è stato a letto non sia non è possibile utilizzare la personalizzazione personaggi blocchi bloccati vabbè non va niente è la prima modalità eliminazione a squadre amo dipende non so se uscirò tra le piante tra gli zombie vediamo appartamenti periferici alla mappa allora gli zombie jetpack scusamo come cazzo disattiviamo l'audio a tutti andiamo andiamo Rez ecco la prima partita su questo multiplayer no si chiudiamo il stunner sono stato eliminato già ragazzi sono una zombie mi devo ricordare dai zombie dai ma tutto è il pian de carnigole su shit pack ti ho fregato cosa ma do una trappola c'era Rianima 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 fatto ma che cazzo ho disattivato l'audio a tutti che cazzo mi piace sta matta è forte però c'hanno un sacco di vita oh madonna la bomba l'ho buttato madonna nessuno mi viene a curare ehi fai fammi bravo sei stato reanimato si grazie l'ho eliminato si mamma mia ma come spara lontano questo coso che cazzo ehi da chi è che ha sparato ma no ma non sono riuscito a fare manco un'uccisione che merda vediamo se mi rianima no non mi rianima nessuno rigenera ora ma questo è il nostro le tombe è eliminato prima la bomba aveva messo la bomba aveva messo ragazzi non manco l'avevo vista nessuno mi viene a curare nessuno e faccio io dai scusa se voglio evocare uno zombie come devo fare se voglio evocare uno zombie come cazzo devo fare ma ste piante tutti quelli si mettono finito è già finita la partita che ha vinto abbiamo vinto noi buono e vabbè è finita questa prima partita ragazzi stavo usando gli zombie non so come in una partita forse già iniziata e vabbè e finisce questa partita non so come e finisce questa partita